Anche la logistica nell'ambito della produzione industriale è sempre più fessibile e digitalizzata. Nelle linee di produzione utilizziamo dei veicoli a guida autonoma per l'ottimizzazione del flusso dei materiali. Sentiamo Anna Maria. Buongiorno, sono Anna Maria Iodice e sono responsabile della logistica interna e del magazzino sul sito di Santa Palomba. In ottica progetti Logistica 5.0 stiamo lavorando sull'automatizzazione dei flussi produttivi interni tramite l'introduzione di AGV, macchine intelligenti a guida autonoma capaci di muoversi da sole e in sicurezza. L'AGV si occupa del trasporto di pedane da magazzino a reparti produttivi e viceversa. Il suo lavoro è schedulato attraverso un'interfaccia tablet grazie alla quale l'operatore è in grado di assegnare emissioni di prelievo e di deposito. Solitamente l'AGV lavora solo nei magazzini, ma nel nostro sito lavora anche nelle aree produttive, vicino agli operatori. Per questo motivo abbiamo installato un sistema di sensoristica per incrementare il livello di sicurezza. Grazie all'AGV abbiamo diversi benefici. I più importanti sono la produttività e l'efficienza, che migliorano grazie all'ottimizzazione dei flussi di trasporto. Inoltre è 100% elettrico e quindi a zero impatto e con ricarica automatica in maniera autonoma.